wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo unboxing io Fox Shooter e io la Pami volevo come sempre ragazzi condividere con voi le parti quelle che mi piacciono cioè la mia collezione quella del Mega Drive raga gli appassionati di vintage sono arrivati tre pacchettini trovate anche poi il post su Instagram la Pamina cosa fa apriamo un pacchettino apriamo gli pacchettini cavolo ce ne sono altri ce ne sono altri ce ne sono altri ce ne sono ad non ce ne sono altri li apriamo insieme dai che fremmo dalla voglia di aprirli porca ceva questo c'è dentro il vogliamo prima vedere col giornale per favore senza aprirlo prendi due paghi uno ora io non però però devi spacchettare inquadrando lo spacchettamento facciamo una limusine attenzione c'è un altro cos'è questo come detersivi vediamo che cosa si però entro lepi che cos'è in campifica miseria ce n'è una ragazza è il Natale però si avrebbe diventato i pacchetti a questo qua che fa i pacchetti nei pacchetti ahia è arrivato cos'è? Bonanza Brados ahia signori per chi non conoscesse Bonanza Bros copertina davvero molto carina leggiamo cosa dice Bonanza Bros mentre lei apre le cose noi non ci interessa roblo & mob i bonanza bros sono i ladri più imbranati in circolazione si sono cacciati in un guaio e hanno bisogno del tuo aiuto per non diventare due avanzi di galera 1991 come vedete ragazzi sbronch completo bonanza bros lo proveremo nella domenica vintage che facciamo su twitch appunto che giorno? la domenica mattina numero 2 qua devo ringraziare personalmente odino se stai guardando il video grazie questo arriva direttamente da odino ragazzi me l'ha regalato lui direttamente ed è l'ultimo titolo che va a completare la collana dei videogiochi dei simpson dedicati al mega drive si chiama virtual bart leggiamo cosa dice allora no questo è spagnolo direi che non c'entra niente si ma non è scritto in italiano non è scritto in italiano bart is in a heap of technological trouble lui ha dei problemi cioè c'è il signor barnes nudo dietro vorrei che guardaste questa fotografia in alto ma what deve essere veramente molto bello virtual bart è un gran pezzo da avere in collezione come vedete completo anche lui con il suo libretto grazie odino questo non vedo l'ora di provarlo insieme a voi in live è l'ultimo ma non l'ultimo per eccellenza perché poi ne arriveranno altri si ce ne sono molti altri in arrivo signori io non ho fatto degli acquisti compulsivi questi compulsivi andiamo questo è ring of e power no non è ring of e power ring of power power e questo non è lì a casa mia no quello lì signori questo non è una e signori ma è bensì un la testa di un ah la testa di un non so dove abbia visto la e lei è buio raga è buio rings of power copertina davvero meravigliosa un mago che cavalca un drago e cazzo vuoi di più della vita ci sarà in italiano leggiamo riunite sei maghi potenti e mettetevi alla ricerca dei famosi anelli del potere con cui libererete il mondo interagite e commerciate con gli abitanti di 30 città più di 100 incantesimi animati del 1991 anche questo completo completo certo sapete ragazzi chi l'ha creato da sistemare un pochettino qua so ah no è fatto così è fatto è della naughty dog vi lascio con questa domanda che altri videogiochi famosi ha fatto la naughty dog insomma ragazzi io vi ringrazio per aver guardato questo video noi vi ringraziamo ringraziamo ci vediamo in live domani mattina alle 8 e mi raccomando seguite le domeniche vintage ciao 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 Grazie per la visione!